L'ineluttabile trascorre del tempo. Poi a questo tema sono molto sensibile perché innanzitutto provoca continuamente trasformazioni della materia, metamorfosi. E poi anche la ragione fondamentale è che da ragazzino, trovandomi proprio tra Mazzara, Trapani... Sono le sue origini. Sono le mie origini. Il tempo che esercitava, come ho detto l'altra volta, sulle cose, sui manufatti, sui templi o sulle sculture, esercitava questa abrasione, questo effetto, consumava e aggrediva la roccia, lasciava però il tempo, le intemperie, il tempo, lasciavano le tracce del suo passaggio creando questa percezione del mito che in Sicilia credo che sia una delle cose delle costanti. I 18 lavori che sono esposti alla Donnara di Bonagia sono realizzati con quale tecnica? Ci sono una decina di oli di piccole dimensioni e poi ci sono otto pastelli che io amo molto realizzare, che poi sono lo strumento che io vengo dalla classicità, perché da ragazzino ho cominciato a fare ritratti, ho fatto il copista. E questo ha costituito, insomma costituisce lo strumento fondamentale, le basi per qualsiasi avventura nell'arte, cioè quello di avere, saper disegnare in pratica.